Qui sia chiaro, chi non rispetta le regole non fa parte del Movimento 5 Stelle, queste sono delle regole a tutela prima di tutto della forza politica che abbiamo, perché noi non siamo superiori, io lo voglio dire a chi dice che il Movimento 5 Stelle è superiore, non è del Movimento 5 Stelle, noi non siamo superiori, noi abbiamo delle regole e intendiamo rispettarle anche quando non piacciono e anche quando si potrebbe fare strategia, noi le applichiamo e basta, la prima regola è restare con i piedi per terra, la prima regola è tagliarsi gli stipendi, la prima regola è non accedere ai privilegi, la prima regola è essere trasparenti, la prima regola è rispettare il mandato elettorale e realizzare un programma elettorale, io sono stato abituato così e probabilmente noi dobbiamo sempre essere coscienti del fatto che sorvegliare il Movimento 5 Stelle significa anche monitorare l'applicazione delle regole che ci siamo dati, delle regole implicite che abbiamo. Oggi facciamo un altro gesto rivoluzionario, però è solo l'antipasto, ve lo posso dire con molta franchezza, io non vedo l'ora di applicare le regole che si applicano nel Movimento 5 Stelle a tutta la classe politica italiana, dateci l'opportunità.